Musica Mercoledì 21 marzo, San Giovanni di Valenza, è l'ottantesimo giorno, dall'inizio dell'anno ne mancano 285 al termine. Il sole sorge alle 6.13 e tramonta alle 18.27, la luna si leva alle 8.34 e tramonta alle 22.47. Primo libro stampato a Padova, i tipografi Bartolomeo di Valdezzocco e Martino de Septem Arboribus pubblicano La Fiammetta di Giovanni Boccaccio. Insieme i due soci stamperanno 9 opere, fra le quali Il Guerrino Meschino e Il Canzoniere di Francesco Petrarca. Le previsioni per domani Cielo in prevalenza sereno, con ottima visibilità Precipitazioni assenti Temperature minime in diminuzione, specie nella pianura orientale, congelate notturne anche su gran parte della pianura Massime in lieve diminuzione in pianura Stazionario in contenuto aumento in montagna Entrambi i valori si manterranno ben al di sotto della norma Venti in pianura inizialmente moderati da nord-est, specie lungo il litorale In graduale attenuazione già in mattinata In alta quota ancora moderati tesi settentrionali In alta quota di tecnici 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 In alta quota di tecnici